vi anticipo che io comunicherò al governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta italia ma per quello che riguarda la campania procederemo in direzione della chiusura di tutto mamma mia che sta succedendo mamma mia santa stanno avvenendo i poliziotti madonna mia madonna quello che c'è questo con il poverino madonna mia madonna mia santa questa è una rivoluzione avevamo immarginato ripeto con l'ordinanza che entra in vigore oggi una misura parziale ma per i dati che abbiamo non basta più neanche questo dobbiamo decidere di chiudere tutto io dunque propongo lockdown per l'italia deciderà il governo nella sua responsabilità per la campania faremo quello che riteniamo giusto per noi io credo che dobbiamo chiudere tutto tranne le attività industriali le attività agricole le attività dell'edilizia l'agroalimentare qua giù una cosa sola il camaronno c'è il compagno che mi fa un grande ciao un bacio a tutti da dato su da dato channel ciao qua giù grazie a tutti